...invece la PS numero 5, la seconda della giornata di domani. E attenzione a questo equipaggio, soprattutto Fabio Andolfi, navigato in questo caso da Manuel Fenoli. Fabio Andolfi corre, è iscritto al campionato italiano rally asfalto e anche al campionato italiano rally promozione perché, pur andando fortissimo, non ha mai vinto una gara del Cira, anche perché lui ha iniziato l'anno scorso con il campionato italiano ma è abituato a calcare palcoscenici internazionali. Sì, lui è stato per anni in riferimento della nostra federazione che l'ha supportato in programmi nel campionato del mondo. L'anno scorso, per il primo anno nel campionato italiano rally dove ha fatto molto bene, dimostrando comunque di essere sempre molto veloce. Anche lui chiaramente, credo, punterà molto su questa stagione. Anche per lui mi sembra un programma definito quasi all'ultimo. Lui è uno dei pochi... Questo è un po' il fil rouge. Eh sì, purtroppo è dei tempi moderni. Dei tempi moderni, infatti l'hai detto tu. Non soltanto nel campo del... Esatto, in generale, il last minute. E più andiamo avanti, sembra che sarà sempre più dura, ma speriamo che sia veramente migliori. Andiamo a vedere quale sarà. Sì, lì è uscita molto arrembante. Uno, quindi 36, 734. Sì, sì, sta scendendo veramente molto deciso. Vediamo se si piazza davanti a Rudi Michelini. No, è dietro. Terza posizione, 1'38, 106 è proprio in linea.